I personaggi, gli episodi e le circostanze temporali narrati e descritti in quest'opera di pura fantasia sono da considerarsi assolutamente inventati. Quindi, qualsiasi coincidenza con eventi, persone e fatti della vita reale è da considerarsi come stabilito puramente casuale. All'Illustrissimo Signor Procuratore del Regno presso l'Eccellentissimo Tribunale di Asti. Asti, a di 31 di agosto 1939, diciassettesimo, era fascista. Ore 15 e 30 Illustrissimo Signor Procuratore del Regno, mi accingo a scriverle non certo priva della deferenza e della dedizione che ogni cittadina di buon nome debba conservare e conferire all'autorità giudiziaria che ella degnamente in persona, in un primo pomeriggio caluroso e pieno di arsura come non se ne vedevano da tempo, in questa città anonima e dimentica degli uomini e di domine Dio. Ma nonostante la fiacchezza del calore che oggi ci invade le ossa e che ci induce a non pensare con esagerata preoccupazione a tutto quello che accadrà domani, vi è forse un domani, trovo in questo stesso istante le forze e la determinazione per vergarle questo scritto di cui ne sono certa, ella vorrà mantenere adeguata cura, dedicandogli l'attenzione umana, se non proprio giudiziaria, secondo il merito che ella stessa vorrà attribuirgli. Del resto, in questo luogo, dove mi vengono somministrate cure continue, amorevoli e perfino compassionevoli per via dell'esaurimento nervoso derivato dalla mia colpa, il tempo pare dilatarsi, allargarsi, assumere una dimensione più rassicurante, come se si volesse affermare categoricamente, definitivamente che lui, il tempo c'è e non ci farà mancare la sua consolatrice presenza, soprattutto nei momenti della pena e del tormento interiore. Intendo confessare qui, su queste poche pagine ingiallite, signor procuratore, tutta la mia più viscerale colpa di peccatrice, prima ancora che di cittadina, per tutto ciò che essa mi ha obbligato a commettere. La mia colpa, la mia, quella di Francesca Elisabetta Birindelli, vedova Federici, di Asti, donna di casa e di famiglia, sottratta ai suoi obblighi umani, morali e civili, alla propria dignità e rettitudine dall'amore di un uomo, lo stesso a cui avrei distrutto e in breve tempo tutto ciò che restava di una vita inutile e miserabile, non meritevole di essere accolta come tale da una donna che ha immortalato la propria per i valori religiosi di fede, speranza e carità e per quelli non meno nobili di obbedienza incondizionata al fascismo, la cui luce ci illumina attraverso l'esempio e la lealtà del duce, in quest'alba di una nuova era, pulita, oserei dire mondata dalla faciloneria e dall'approssimazione che razze deboli e inferiori hanno cercato miseramente di infliggere. E Dio abbia misricordia di loro, già che io, in verità, non ne ravviso alcuna dentro me stessa. Bene immagino, ancorché i vapori del bromuro delle tre del pomeriggio mi offuschino leggermente la percezione del tempo che vossignoria avrà tratto l'allarme doveroso e rispettabile che deve al proprio uffizio temendo, oppure più giustamente sospettando che io abbia commesso un qualsivoglia reato, così come è previsto e perseguito dai codici e dalle leggi del Regno d'Italia. La rassicuro immediatamente, io non ho mai commesso reati, ma, questo sì, sento profonda dentro di me la consapevolezza di aver commesso un crimine, quello di aver cancellato, annullato, offuscato, obnubilato e offeso l'unica persona che mi abbia mai amato nella mia vita intera, togliendogli la sua. Della mia infanzia e della sua successiva evoluzione verso la giovinezza, Signore, non sono esattamente buoni i ricordi che conservo. Mio padre, che Dio possa averne pietà, guardava sempre a me con leggerezza scherzosa e beffarda, preso com'era dalla passione per il suo grammofono e per la collezione dei dischi d'opera cui era legatissimo. Sentivamo Caruso soprattutto, quando colui che mi diede la vita, una vita certamente biologica, ma non degna di questo nome, rincasava, dopo aver incontrato qualche donna di malaffare, più per sentirsi gratificato dalla sua abilità di seduttore, che per mercimonio soldi venerano ben pochi, faceva spesso scorrere la puntina su quelle incisioni stampate su materiale appiccicoso e approssimativo e per la casa faceva cospargere arie e canzonette del tenore che in famiglia ascoltavamo, ma sarebbe assai meglio dire che sopportavamo con rassegnata curiosità. Aveva un debole per la mattinata di Leoncavallo, la cui copia risultava consunta dall'uso e scricchiolava quando l'altoparlante riproduceva la parte muta che precedeva la musica. Ricordo ancora adesso come se me lo portasse l'odore di una giornata terza e fresca di inizio primavera che una strofa recitava più o meno così. Ove non sei la luce manca, ove tu sei nasce l'amor. Ed era quello il punto in cui tutti cantavamo all'unisono, ciascuno impegnato nei propri mestieri quotidiani, chi rassettando la cucina, chi cucendo pazientemente un rammendo a un vestito ancora buono e che non sapeva buttare via. Cos'era dunque la luce? E quando è che veniva buio, quel buio che coincideva con le tenebre dell'anima? La luce era la presenza dell'amore e le tenebre disorientanti erano la sua stessa negazione. Mia madre, povera donna, più che di leggerezza viveva di pregiudizi e di preferenze, soprattutto quella per la mia sorella maggiore che lei chiamava con vezzeggiativa mielosità onestina. Onesta era il suo nome all'anagrafe dello stato civile e onesta lo era davvero, abituata, com'era, a dire pane al pane e vino al vino, senza pudori né mezze misure, mentre io, al contempo, cercavo di vedere sempre una via di mezzo alle cose che potesse portarmi a vedere ciò che in esse c'è di buono, sempre cercando un compromesso che potesse alleviarmi il senso di quell'aria cupa che si rispirava in famiglia, la cui grevità avrebbe spezzato le reni a chiunque. E i compromessi possono portare alla morte, oppure alla follia, scelga lei, che di morti ammazzati ne ha visti tanti. Ricordo che una volta mio padre, nello scherzare con me, si mise a mostrarmisi in più di un'occasione con un coltellaccio sistemato tra i denti alla bene e meglio. Forse intendeva spaventarmi e io gli feci credere che fosse vero, perché in fondo ero convinta che fosse proprio quello il suo intento. Voleva farmi capire che dovevo sentirmi in colpa di qualcosa che sentivo di non avere fatto. E allora, similmente a un gatto abbandonato su una strada polverosa, mi rintanai in un angolo, raccolsi a me le ginocchia ed evitai di guardarlo in viso. Le persone hanno un debole per i gatti abbandonati e io sentii distintamente che quell'immagine che io restituivo di me al mondo sarebbe stata insieme quella della mia presunta arrendevolezza e quella della mia più sottile vendetta. Gatto randaggio ero e gatto randaggio mi divertì a restare per tutta la vita. Era così che mi aveva voluto la mia famiglia e io ero ben lieta di assecondarne le aspettative, tanto che finii col credere di avere tutto dei gatti, perfino certe malattie come la rogna per via d'un prurito incoercibile che di tanto in tanto ancora oggi mi tormenta senza tregua. I medici di qui chiamano questo tipo di disturbi con l'aggettivo di psicosomatici. In vero mi è impossibile credere che la mente possa dominare a tal punto il corpo da causarne una qualche infermità di grave o di minor portata che essa possa essere. Qualcuno di quelli di qui che mi curano i nervi e con risultati assai più discutibili, l'anima, teorizza astrusità quali quella secondo cui perfino il male estremo, il brutto male. Il malaccio che porta a morte possa essere determinato dall'incessante sofferenza della mente. Ma io a queste balordaggini non credo, io sono io e non vedo come quel che causa l'ansietà possa portare a morte. Non è difficile salvarsene, signor procuratore del regno. È sufficiente tagliare ogni ponte col passato, non tornare mai più indietro, ma soprattutto non permettere a nessuno che pensiamo possa farci del male, il raggiungerci là dove ci troviamo e dove abbiamo trovato porto sicuro. Come tutte le fanciulle della mia età, anch'io volevo vivere in pace con tutti, ma quel che mi fu insegnato fu il fare la guerra, o che non abbia mai mai avvenire la guerra a quella vera, mai più, mestiere che imparai bene nonostante il mio iniziale disinteresse. Decisi di pormi nei confronti del mondo come la più affettuosa e taciturna, ma disponibile delle creature, avvertendo chiunque che se ci fosse stata la necessità di un comportamento bellicoso ma inevitabile da parte mia, non mi sarei certo tirata indietro e avrei graffiato, graffiato e ancora graffiato l'avversario, fino a renderlo completamente cieco, come fanno i gatti. Mentre mia madre continuava con il suo atteggiamento spavaldo e aperto di sempre, io vivevo ai margini di quel mondo che bene non mi voleva e male mi faceva in continuazione, al punto che posso dire con certezza di non essere mai stata abituata al bene e di fuggirlo come la peste bubonica ogni qualvolta esso mi venga proposto in qualsivoglia forma. Del resto, perché mai qualcuno dovrebbe voler bene a qualcun altro in modo gratuito e disinteressato? Per quale lontano motivo dovrebbe interessarsi a un gatto randaggio che non vuole essere addomesticato e che preferisce dormire in qualche rintanata intercapedine quando piove, piuttosto che al caldo d'un cammino d'inverno, non che io disprezzassi o che ancora disprezzi il bene come cosa in sé. Semplicemente lo trovo un abito assai scomodo da indossare e portare. Avere il viso buono e l'animo incattivito dalla sfiducia mi ha aiutato più e più volte nella vita. Del resto, il Dio, di cui ho sempre sentito il richiamo, è feroce e compassionevole al tempo stesso e un profondo e radicato senso di giustizia mi ha sempre dimostrato che quel che vale per gli altri vale, forse a maggior ragione e con più intenso diritto anche per noi. Presi a frequentare da principio senza speciali entusiasmi, un istituto di religiosi di questa città di collina che odora quasi di montagna e lì conseguì il diploma di maestra in forma sottomessa e insinuante come fanno gli stessi gatti quando si assottigliano e si abbassano per poter entrare in qualche pertugio e nascondervi sì. Fu lì che conobbi castissimamente chiaro un religioso, il cui nome non voglio ricordare, il quale prese a parlarmi, oltre che della specchiata virtù cristiana di Santa Teresa Davila, il cui sacrificio mi fu di conforto e di modello, lo sapeva che il giorno della morte di Teresa non è mai esistito, di un certo signore austriaco che curava i nervi delle persone solo facendole sdraiare e parlandoci di continuo. Psicoanalisi mi pare si chiamasse codesto approccio e fu così che nell'insistenza dell'eloquio del mio maestro venni a leggere un romanzo scritto da un triestino di buon ingegno e dalla penna furba e scaltra che parlava di un certo Zeno Cosini, il quale pareva avesse come unica e precipua ossessione quella di smettere di fumare. E ogni volta che leggevo quelle pagine sentivo dentro me crescere un rabbioso disagio e un'avversità per il protagonista della narrazione di quello scrittore, Ettore mi pare si chiamasse, di cui ammiravo tanto lo stile al punto di chiedere un giorno al mio maestro la cui vista cominciava a venir meno se tutto quello che gli uomini scrivevano nei romanzi fosse autobiografico oppure frutto di una felice o malestra a seconda dei casi immaginazione di una realtà altra che, pure, non poteva loro appartenere in nessun modo per il solo fatto di non averla mai vissuta e di non averne mai fatto esperienza. Egli, sedendosi da presso a me e tastandomi il braccio per supplire alle sue difficoltà, visive, ebbe a rispondermi che, certo, chiunque scriva non può far altro che parlare di sé, solo che questo può essere detto in almeno due modi differenti. «Son nato nel tale luogo cinquant'anni fa» oppure «C'era una volta un re che aveva cinque figli». Io che, da bambina, inventavo continuamente storie per farmi compagnia e addormentarmi nel letto dalle lenzuola bianche ruvide che nella stagione fredda mia madre mi riscaldava appena con il tepore di un fornelletto per le braci. Sapevo che non era così, che nulla di quello che gli uomini scrivono o raccontano ha a che fare con la loro vita. Esattamente come mi sembrava una solenne bagianata il fatto che nel romanzo di quel lettore lì si cominciasse a sostenere, e neanche in modo troppo velato, che le malattie del corpo sono associate ai disagi della mente, la stessa cosa che intendono darmi a convincimento in questo luogo in cui sono ricoverata e reclusa. Di lì a poco non avrei mai più rivisto il mio maestro. Lo trasportarono via da quel luogo sacro per via di certe teorie bislacche che gli erano balenate in capo tipo che Dio era padre, sì, ma era al contempo anche madre in quanto creatore di vita e di vita abbondante. Mi pare di rammentare che fu una suora ad occuparsi degli ultimi anni della sua vita una brava donna devota e timorata di Dio cui fu dato l'unico ordine imperativo di non cedere alle richieste di quell'uomo che altro non voleva che farsi leggere ad alta voce lui che con gli occhi non poteva più farlo romanzi uno appresso all'altro. Maestra, poi lo diventai a mia volta e fui assunta in servizio dapprima come supplente in un istituto femminile poco lontano dal luogo in cui mi trovo ora entra in confidenza con alcune delle mie colleghe coetanee in particolare con una di loro che mi sembrava simpatica accattivante avvenente e traditrice come il suo nome di battesimo Alessandra in maniera paradossale erano proprio queste contraddizioni del suo animo che me la facevano preferire riusciva a parlare in modo freddissimo e distaccato col direttore e un istante dopo sorridere a chiunque incontrasse successivamente e quando veniva il momento del sabato e della domenica e si doveva inventare qualcosa per tirare via le ore aveva sempre da parte un po' di vino o qualche liquore da bere a gargalella dimentiche come eravamo dell'istituzione scolastica del direttore e delle nostre stesse vite di un tempo fu grazie a lei che scoprì che tutte quelle sostanze che ci rendevano ebbre ancorché non fossero di eccelsa qualità per via dei pochi soldi di cui Alessandra poteva disporre per comprarne io le tolleravo benissimo e che oltretutto apprezzavo assai quel lubrificare la nostra esistenza con le nubi dell'oblio che si dissolvevano poco a poco e che ci portavano ignare come eravamo fino al sonno delle prime ore del mattino di lei si sapeva che doveva andare in sposa a un bravo giovane del suo stesso paese e della sua e della sua eguale condizione l'unica volta in cui lo vidi fu anche l'ultima lei si allontanò per pochi minuti dalla nostra compagnia e indossò di nuovo quel volto freddo e cadaverico per dirgli addio un addio definitivo e senza la possibilità di dire neanche una parola senza spiegazioni di quelli che vanno presi per quello che sono e basta imposti e che debbono essere categoricamente accettati in silenzio fu come se lo avesse di colpo accompagnato in un gelido altrove fatto di quel freddo d'inverno che lascia i polpastrelli delle dita di un curioso colore violaceo da prima fino a prendere con prepotenza maschia ineludibile tutto l'arto riducendolo a un fascio di fibre che cedono lentamente ma inesorabilmente alla insensibilità prima e subito dopo al rigore assoluto tanto simile a quello della morte Alessandra dal canto suo non mostrò il benché minimo dispiacere per quel giovinotto che pure di bene quel bene che io non conoscevo né volevo conoscere doveva volermene e tanto a modo suo si intende già che a me parve per quel poco che lo intravidi disturbato mentalmente o illustrissimo non che fosse pazzo no aveva al contrario modi gentili che tuttavia a me non parvero né spontanei né tanto meno carichi di quell'empatia che ogni essere umano dà bene e ben formato ai precetti del nostro partito fascista dovrebbe avere nel rapportarsi a ciascheduno che faccia parte del consesso civile ove per tale intendo e lei lo capirà certamente da bravo uomo ligio al dovere e all'osservanza delle regole proposte dal nostro amato produce una uniformità di razza eletta senza eccezioni concesse a chiunque non abbia caratteri anche somatici e fisici tali da giovargli il titolo di cittadino dell'impero Alessandra dopo tornò a noi e fece una smorfia come a volersi rilassare il viso prese una bottiglia di anisetta meletti che conservavamo per le occasioni di convivialità e ne beve ripetutamente delle sorsate lunghe e liberatrici ne offrì altrettanto a tutte noi e la vita riprese poi che ebbe accompagnato il suo promesso nell'unico luogo in cui costui non avrebbe mai voluto recarsi e io pensai allora che se mai fosse accaduto qualcosa di simile a me avrei fatto esattamente la stessa cosa fu quel che feci ore 18 quella breve occasionale ma così intima amicizia deve aver segnato e solo ora me ne rendo conto la mia entusiastica vita tesa alla incondizionata gioia per l'ideale fascista più di quanto io ammisi a me stessa mi accadde più volte di ripensare dopo la fine dei nostri comuni studi a quanto quella ragazza bellissima abbia fatto per il mio più profondo sentire insegnandomi che uccidere per salvare la propria essenza di italiani ligi al proprio dovere non è affatto un crimine aveva ucciso l'amore di quel bell'imbusto di passaggio sì ma quale era la sua responsabilità inoltre perché mai doveva sentirsi ed essere costantemente perseguitata per il solo fatto di aver rifiutato quello che ella stessa non voleva quel disgraziato l'amava perdutamente sì ma doveva forse e solo per questa cagione asfissiare le sue aspirazioni e la sua adesione al modello di vita della brava donna fascista così come il duce ci ha insegnato era stato il suo a ben vedere un incessante dichiarare la propria responsabilità ma non la propria colpa ed è fuori di dubbio che ella illustrissimo signor procuratore solo di responsabilità può e deve occuparsi rammettere rammenterà che una quindicina d'anni orsono un deputato bolshevico e socialista rammollito come il suo nome di battesimo Giacomo fu ritrovato cadavere e che la pubblica opinione parlò di morte conseguente a un gesto violento intenzionale e comunque teso a provocarne il decesso il nostro duce di cui ignobilmente fu attribuita la responsabilità morale di quel fatto al punto di individuarlo come mandante di quello che certamente fu opera di qualche balordo di strada come ebbero a dimostrare le prime indagini uscì a testa alta da quella insinuatoria bassezza pronunziando le frasi che mi sono più care tra tutte le sue se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello e non invece una superba passione della migliore gioventù italiana a me la colpa se il fascismo è stato un'associazione a delinquere a me la responsabilità di questo perché questo clima storico politico e morale io l'ho creato principiai il mio lavoro di maestra con rinnovato entusiasmo l'intelligenza dei miei alunni mi permise di plasmarli e modellarli non già a mio piacimento ma secondo i precetti del partito nazionale fascista rammento che tra quei bambini che accompagnavo di buon grado alle attività ludiche del sabato fascista ne era inserita una di provenienza argentina che non parlava altro che la lingua spagnola e che mi faceva molta pena non trova anch'ella signor procuratore che lo spagnuolo abbia in sé qualcosa di barbaro primitivo e financo volgare in verità apprenderlo è estremamente semplice in fondo basta aggiungere la S finale a buona parte delle parole italiane di origine latina ma non ravviso nella cultura di questa lingua disgraziata alcun apporto benché misero alla ricchezza del patrimonio italiano e fascista in Spagna tre anni fa le gloriose milizie del generalissimo Francesco Franco hanno reso cadavere un orrendo pederasta ingiustamente definito poeta dai suoi pari quel Don Quixote di cui si sente parlare non rappresenta altro che una goffa marionetta da teatrino per infanti un buzzurro secco e allampanato sempre preso a discorrere con un servitore grasso indolente e ignorante comunque mi diedi assai da fare per questa fanciulla con l'intimo desiderio del mio sacrifizio per la scuola del regno e mi recai all'ambasciata d'argentina che trovasi in Roma per discorrere del caso di questa poverina con un addetto che lì lavorava occupandosi dell'italianizzazione dei suoi compatrioti nell'entrare nel maestoso e grandioso edifizio pieno di porterigne e finestre che quasi incuteva timore per la seria rimbombante austerità che evocava notai un giovinotto elegante e di buone maniere vestito in divisa che mi diede le prime informazioni sommarie di cui necessitavo a cui aggiunsi ulteriori richieste assolutamente pretestuose per me che gli porgevo al solo scopo di prolungare via più la conversazione pareva di buon carattere illustrissimo e lo era la sua mitezza la sua pazienza la sua dedizione al lavoro per non parlare della sua totale e assoluta fedeltà al duce mi rassicuravano tollerava di tutto quel bravo uomo persino le correnti d'aria di quell'ambiente dai corridoi ampi vuoti e rintronanti cose che al contrario di quel che accadeva a lui a me furono talmente contrarie che giusto mentre stava per terminare quel soggiorno romano con l'intenzione di ricevere la benedizione del santo padre Pio undecimo allora felicemente regnante cadde in ferma d'un odioso male di petto che mi affliggeva il respiro fui ricoverata proprio grazie all'interessamento di quell'uomo bravo irreprensibile nella clinica del professor Francesco Saverio Petacci che allora esercitava come medico dei sacri palazzi apostolici e aveva in cura il santo padre medesimo veniva a trovarmi di tanto in tanto quell'uomo così perfetto ai miei occhi da restarne attratta come in preda ad un incantesimo mi recava dei giornali di quando in quando e seppi che con ogni probabilità sarebbe stato richiamato dal governo per la campagna di Etiopia dove si sarebbe fatto inviare come volontario e dove si sarebbe fatto onore al fianco dei generali del duce per questi e ben altri più nobili motivi decidemmo di sposarci prima che gli potesse partire e con un contenuto ma virile entusiasmo fu una cerimonia di netto sapore fascista e tutto ciò ci fece onore in quanto novelli sposi e componenti di un nucleo familiare italiano ne uscimmo raggianti e sorridenti come si deve sorridere in un matrimonio fascista e io ero diventata la signora Federici festeggiammo le nozze con un viaggio in quell'argentina da cui tutto a voler ben vedere era cominciato attrerrando a buon'aria di cui tollerammo di malgrado l'orripilante espressione linguistica spagnuola ripieni di speranza e di progetti per il radioso futuro familiare fascista che ci attendeva nel ripensarci ora credo di non aver vissuto un periodo sì divertente e pieno di impegni mondani Riccardo questo era il nome di colui che divenne il mio primo e unico marito mi portava spesso alle feste da ballo che le autorità diplomatiche organizzavano e ci lanciavamo in giravolte e turbinì di danze alla moda pareva che i miei piedi si muovessero per conto proprio e che sentissero addirittura i nuovi ritmi che arrivavano dalle orchestre di oltreoceano prima ancora che essi arrivassero al cervello ridevamo di cuore sinceri ben disposti ma soprattutto fascisti mentre Luigi braccio forte suonava la sua tromba con la sordina e canticchiava d'una voce roca e sorniona al contempo di santi che andavano marciando in quelle occasioni venivano serviti arzete bevande arlecchine e qualche briocia bombole marroni canditi che risultavano estremamente graditi al mio palato gli uomini preferivano il pantosto o qualche tramezzino come lo chiama il poeta vate cibi più corroboranti e adatti alla fatica che rivelavano dopo un incontro di pallacorda Riccardo apprezzava che io reggessi assai bene l'alcoole e incrociavamo le braccia brindando dopo che ci venivano servite un paio di coppe di champagna e poi i nostri piedi così traditori ci riportavano sulle piste accompagnandoci con le musiche dello slancio spesso ci recavamo a vedere a teatro commedie di Guglielmo Scuotilancia e al cinematografo Lumière anche qualche pellicola comica già che al nobilissimo Duce pareva piacessero assai i rulli del grasso e del magro che tuttavia non venivano proiettati nelle sale dove però assai spesso e per pochissimi centesimi era possibile assistere alle peripezie di Ridolini e io ridevo 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 a volte senza sapere nemmen per cosa in casa la vita scorreva con una sorprendente tranquillità in quelle domeniche in cui non si era impegnati in qualche circostanza sociale alla sera mentre preparavo le lezioni per il giorno successivo sfogliando qualcuno dei volumetti della casa editrice Salani di quella biblioteca dei ragazzi che tanto mi piaceva proporre ai miei allievi accendevamo la radio Marelli c'era una canzone che veniva trasmessa spesso dal canale radiofonico di Berlino e che ruotando la manopola della sintonia cercavamo ogni volta che le valvole ci erano propizie parlava di una caserma e di una lanterna che gli stava di fronte e restavamo muti increduli quando una voce femminile ma con alcune tonalità da maschiaccio arrivava a cantare Aus dem stillen Raum aus der Erdegrund hebt mich wie im Trauma dein verliebter Mund e anche noi creavamo quegli spazi silenti in cui volevamo coinvolgere le nostre bocche innamorate finché Riccardo non crollava esausto non appena toccato il letto e io gli accarezzavo la nuca mentre il sonno si impossessava repente di lui oh illustrissimo non erano sacrificio e immolazione i miei erano devozione e obbedienza e di ciò mi convincevo sempre più quando mi accingevo a spegnere il lume non ho rimpianto no né del bene ricevuto né del male tutto mi è uguale in fondo pochi mesi più tardi quello che fu e resterà per sempre mio marito cui furono sempre attribuiti compiti di estrema delicatezza e responsabilità fu destinato alla supervisione della fornitura di Fosgene per la guerra ad Etiopia e partì per quelle regioni dell'impero per compiere il suo patrio dovere di italiano fedele e fu se ben ricordo in un giorno in cui i miei alunni erano impegnati in un compito dornato e di bella grafia che il sindaco di questa città venne a cercarmi a scuola entrò dalla porta dell'aula scoprendosi il capo l'aria contrita e il volto solcato da lagrime di circostanza sgorgate più per essersi stropicciato gli occhi apposta che per autentico e sentito dolore mi comunicò con estremo imbarazzo e dolorosa mestizia che Riccardo era venuto meno eroicamente nel maneggiare quello stesso fosgene destinato alla negra popolazione d'Etiopia e non certo al suo italico sembiante recava in mano un pacchetto con due medaglie al merito che conservo ancora nella cantera di cima del mobile della camera in cui tanto aveva dormito erano l'espressione dello spirito contrito dello stesso duce ne ero certa tuttavia non mostrei dolore il dolore non serve ad alcunché signor procuratore esso è necessario conseguente e successivo alla vita stessa ma non utile ogni dolore ci è inutile nella maniera più perfetta e spietata in cui si manifesta ciò che è utile e soprattutto per la nostra italica causa è la fatica la stessa con cui trascinai a casa i miei passi sfiniti ma disobbedienti e discoli e la medesima con la quale riposi le medaglie che mai mi avrebbero restituito le labbra di Riccardo le stesse che erano perdute per sempre e che avrei ritrovato riconoscendole nell'uomo che avrei assassinato ore e venti il caldo che attanaglia la serata illustrissimo signor procuratore mi ha indotto a interrompere la narrazione dei fatti della mia anima la riprendo dopo una cena frugale mentre addento una pesca succosa che gronda sulle mie vesti il suonettare zuccherino e da sollievo alla gola riarsa a lei piacciono le pesche signor procuratore oh sono deliziose sa non le sembra un vero e proprio sollievo naturale l'addentarle così come sono appena colte dall'albero sugose immature che siano o ancora dure che a morderle fan sanguinare le gengive le une e le altre in gelo sono saporitissime e io non fo per vantarmene il gelo lo so preparare assai bene sa è un dolce di una tale semplicità nell'esecuzione che riesce financo di maraviglia quando lo si serve in tavola ai commensali e devo dire che risulta sempre gradito al palato di chi viene a visitarmi quando sono a casa intendo ovvero quando la calura non mi fiacca le gambe fino a farmele tremolare e finché i miei disturbi nervosi non cedono allo sbalzo pressorio e di umore che spesso mi attanaglia e che rende queste notti insonnie lunghe come i romanzi di uno scrittore russo che ne scrisse uno proprio sulla dualità connessa tra i delitti e i castighi della vita non che io ami beninteso la letteratura russa trovandola noiosa e ridondante normalmente fatta salvo a qualche rara eccezione per quanto io mi sforzi non riesco a ricordare i nomi dei personaggi e il grado di parentela di cui si parla ma quel bravo cristiano che discorre di umiliazioni offese idioti e ce ne sono tanti qui sa e giuocatori d'azzardo è riuscito a redimere l'umanità colpevole attestando che ad ogni azione criminosa quelle dell'anima inispecie corrisponda o debba corrispondere una azione uguale e contraria esattamente come accade nelle leggi della fisica ma se il signor procuratore dovesse comunque avere a cuore di saggiare un buon gelo raccolga il succo di un chilo abbondante di pesche lo passi per il colino assai meglio se con una garza lo allunghi con un po' d'acqua e vi versi tre cucchiaiate di zucchero o anche meno se volesse apprezzarne il sapore acidulo poi aggiunga dell'amido e versi il tutto in un pentolino d'alluminio o ancor meglio d'acciaro fino di quello più resistente accende il fuoco e con un mestolo di legno lo faccia andare finché il tutto non s'addenza io non so darle le dosi esatte che pure conservo in un quadernetto che la mia povera mamma aveva via via riempito delle sue ricette più riuscite non che in casa nostra Abadi s'avesse a morire di fame già che anche nei tempi più bui il mangiare non era mai mancato così come per le feste il mio caro nonno la cui memoria ma compagna sempre ci portava di quando in quando una bottiglia di barolo nel quale pure era tanto bello inzuppare del pansecco tagliato a listarelle sottili ad ogni buon conto lascerà raffreddare il composto quel tanto che lo renda tiepido fino a versarlo in uno stampo da budini e collocarlo di poi su un piano dove poggerà di molto ma di molto ghiaccio di modo che in un paio d'ore o tre il dolce sia pronto e ben gelido ma avrà a rammentare ma stia bene attento alle mosche le quali d'estate sono particolarmente insistenti e dopo un po' vengono a noia per via del loro ronzare intorno alla frutta che rilascia pian piano tutta la propria dolcezza facendola appresso degenerare in una poltiglia che sa di forte il rapido degenerarsi delle cose delle circostanze signor procuratore non è altro che la perfetta metafora e la rappresentazione più vivida di quel che accade agli umani quando sprofondano nel gorgo ignari del proprio destino e solitamente muti rivestiti solo dell'inconsapevolezza di quanto loro sta per succedere e che li porterà a polverizzarsi del tutto come chicchi di caffè nel macinino rendendosi inconsistenti impalpabili quasi volatili che basta solo un soffio per disperderli costringendoli a lasciar di se stessi appena appena un sentore che passa dopo poco deve essere per questo che il bene amato Duce ci ha insegnato a far penitenza di noi stessi e dello straniero rendendoci avvezzi al surrogato di cicoria e all'orzo tostato il primo ci rammenta l'amarezza e la durezza della vita mentre il tiepido retrogusto dolciastro del secondo distoglie dall'oblio l'innegabile circostanza che nell'umana vita di noi altri le soddisfazioni sono poche e hanno da essere assaporate a piccoli sorsi bollenti in ispirito di sacrificio ed abnegazione e fu una sera dello scorso settembre che lo vidi per la prima volta era un uomo di statura medio alta bello o quel che si dice tale non lo era affatto aveva il naso affilato e schiacciato sul fondo e restituiva un sorriso che pareva più di bambino che di uomo adulto quale indubbiamente doveva risultare dai suoi dati anagrafici la cosa che mi colpì di lui prima ancora della sua attività di scrittore che tale era e tale probabilmente era stato da tutta e per tutta la vita fu la sua propensione anch'essa fanciollisca allo stupore si stupiva di tutto quell'uomo di età non più giovane eppure dall'aspetto di un ragazzino portava una barbetta incolta che come mi disse successivamente si era fatto crescere per non aprire troppo imberbe agli occhi di chi lo incontrasse non perché in sé pensasse che ne aveva un bisogno effettivo anzi a volte la barba quando principiava ad allungargli si gli dava un tormento fastidioso che gli indicava bisogno di recarsi dal barbiere per farsi ammorbidire la pelle del viso con uno sciugamano caldo e procedere a colpi di punta di forbice a farsela accorciare per finire con una spruzzata abbondante di odore di mentolo mi ero recata alla libreria del fascio che ancora esercita in un piccolo locale non lontano dal posto in cui mi trovo e in cui di qui a poco stanno per spegnere le luci generali cosa che mi obbligherà ad accendere una candela di sego per proseguire a scriverle anche in quelle ore in cui il sonno prende il posto dell'afa spero ne sia felice perché accoglierà la colpa di un'anima tormentata e ne stabilirà il giusto castigo che mi glorio di scontare da principio feci in modo di scacciarlo con ogni mezzo ivi compreso quello del telefono quell'apparecchio di colore bianco che ancora conservo nella casa della mia famiglia di origine e che mio padre mi permetteva di usare con estrema e saltuaria parsimonia lo ripresi in una giornata di ottobre per dirgli che quel contatto quel gioco epistolare che si era andata a formare nel tempo doveva pur finire in un modo o nell'altro fu la prima volta che gli parlai dopo che quel caleidoscopio di lettere spesso ben vregate in maniera affrettata aveva sconvolto il mio animo ben oltre le mie aspettative ritenevo fosse buona cosa proporgli di coltivare una semplice ma sincera amicizia senza pensare a un eventuale domani senza impegno da ciascheduno così come veniva cosa che mi parve oltre che ragionevole anche piuttosto ardita non stava certo bene che la mia immagine di fronte a una società specchiatamente fascista e da bene potesse essere messa in ridicolo dall'occasionale contatto con uno sconosciuto che tale era e tale doveva rimanere che la confidenza non è buona cosa che venga elargita con facilità e leggerezza ma tutto tutto di me era intriso di lui aveva un modo nuovo sconosciuto eppure così familiare per me di esprimermi i suoi pensieri e le sue impressioni sulla vita sull'amore e persino sulla sua scrittura stessa pareva che quell'uomo fosse venuto a me con la sola forza dei suoi piedi per mostrarmi un miracolo che io non avevo mai conosciuto quell'uomo unico e sorprendente fu e sempre stato e per sempre rimarrà la persona migliore che abbia mai fatto parte della mia irreprensibile vita e fu esattamente la persona che uccisi ore 22 quell'uomo il cui nome indiscutibilmente romano non voglio neanche rammentare tale il dolore che il solo evocarlo mi crea non trova incredibile illustrissimo signor procuratore come un solo nome possa devastare un'intera esistenza era venuto a presentare un suo libro sulla riforma dell'istruzione dei giovani messa in atto dal ministro Giovanni Gentile che Dio gli ne renda merito altri partecipanti al modesto e scarsamente frequentato evento mi avevano informata del fatto che aveva l'anno prima pubblicato un romanzo sul tormento interiore di un sacerdote che aveva perduto la fede parlava dimostrando di conoscere assai bene il fatto proprio e aveva un'oratoria che sapeva coinvolgere fin da subito l'attenzione degli astanti pareva quasi che conoscesse perfettamente le reazioni dei convenuti ne preveniva le domande anche con gustosi motti di spirito che rendevano l'atmosfera solitamente plumbea di queste riunioni per pochi eletti leggera e dal respiro piacevole corroborando il suo discorrere con un vizio di pronunzia che non mi veniva affatto ingrato tra le sue metafore e le mie titubanze mi riuscì tuttavia agevole e non di difficile approccio l'avvicinarmi a lui con la scusa di farmi dedicare una copia del suo libro che avevo tra le mani e che avrei pagato al defluire del pubblico convenuto all'evento circostanza che egli con mio imbarazzo e sbigottimento che malcelai lì per lì evitò con la bravura ad un piola comunicandomi che si sarebbe trattato di un suo dono e che non c'era bisogno che io spendessi i miei denari per quello che definiva un suo non nulla mi chiese quale fosse il mio nome per vergare sul frontespizio del suo libricino aveva delle dimensioni che ella mi comprenderà non permettevano esattamente di definirlo come volume vero e proprio la dedicatoria richiesta in cui pensavo avrebbe scritto di pugno due o tre righe affrettate sul modello di quanto doveva aver già fatto per altri richiedenti e per molti o pochi che fossero stati mi disse che il suo nome gli era caro e grato giacché gli ricordava quello di una buona bambina che aveva conosciuto in gioventù a Francesca con personale e affettuosa gratitudine in ricordo di una giornata di vero amore fascista quella frase seguita dalla sua firma svolazzante resa infrettolosa ma bella e ordinata grafia mi seccò le devo confessare signor procuratore che cominciai a sentire il peso del fatto che di lì a poco quella gradevole persona mi sarebbe di nuovo cominciata a divenire estranea quando ero bambina tra le fiabe che udivo restavo sempre con aria imbronciata e interrogativa al sentir narrare di cenerentola che doveva rientrare in fretta e furia prima della mezzanotte altrimenti la sua bella carrozza sarebbe ridiventata una zucca ma non è forse vero che non si vive nel mondo delle fiabe e che non ci si abitua mai al bene per quanto di piccola e breve portata esso sia che altri ci proporzionano ecco sì illustrissimo nel bene non mi sono mai ritrovata appieno non che non lo apprezzi in quanto tale beninteso o che non ne conosca la modalità fascista trasmessaci da Mussolini che ho sentito più e più volte alla radio nella canzone che mio padre cantichiava e che tutti amiamo la bella abissina dalla faccetta nera non aveva forse diritto anch'essa ad essere romana e ad avere un altro duce e un altro re e non era questo il suo bene eppure quando mio padre ne ricordava le note ad sensum fuggivo con ritrosia anche dalla sua più tenera ancorché occasionale carezza di genitore perché mai quell'uomo appena conosciuto dunque avrebbe mai dovuto farmi del bene o peggio ancora volermene e stranei eravamo ed e stranei tornammo ad essere fino al mattino quando dopo aver sorbito la dolcezza dell'orzo di cui le parlavo presi un foglio di carta elegante intinsi la penna nel calamaio e mi accinsi avvergargli alcune note di cortesia è la cortesia un bene anch'essa non sapevo non so non saprei da ricapetargli con il dispaccio della posta del mezzodì rammentai e probabilmente solo allora me ne rendo conto nel mentre le scrivo che nel congedarmi la sera avanti mi strinse la sua mano nella sua ho le dita fusolate le medesime di un suonatore di strumenti a corda e mi disse la cercherò ancora semmai dovrò ritrovarmi a passare per una di queste strade rispose comunque quasi a giro di inoltro alla mia missiva e ne rimasi più che stupefatta temevo che quell'incontro fugace e certamente di circostanza non potesse avere conservato in sé null'altro che la patetica ma indispensabile cortesia di quella circostanza ma principiamo a intraprendere un fitto scambio epistolare in cui ci raccontavamo delle rispettive vite dei pensieri che ne facevano parte dei dubbi delle incertezze arrivando perfino a toccare temi ed argomenti che ella illustrissimo avrà senz'altro da considerare marginali e risibili nella loro puerile trattazione come quando ebbi a scrivergli di quando da bambina mio padre e mia madre mi recarano ai giordini di Torino e di come in quella città per me magica in quelle passeggiate attraverso piazza castello per me magiche nonché nei magici locali in cui ci fremmavamo ora per un breve ristoro di cioccolata bollente ora per una bibita fresca nel percorrere quegli ordinati spazi ripieni di alberi ed altra abbondante vegetazione io scorsi vagar tra gli arbusti delle graziose e invadenti scimmiette animali curiosi e di singolare carattere deciso che giocavano allegre e divertenti ora mettendosi goffamente le mani sugli occhi ora sulla testa ora sulla bocca scomparendo di tanto in tanto per poi ricomparire in tutta la loro sfrontatezza provocatoria ma rassicurante ed egli era lì signor procuratore del regno c'era era presente vivo e il suon di lui mi arrivava pressoché ogni giorno con lo stridore del fattorino delle lettere al campanaccio d'ingresso della mia casa le ho accennato al fatto che quell'uomo non lo conobbi no lo riconobbi ed è ciò che mi sembra essenziale se li guarda signor procuratore al testo sacro della Genesi leggerà che Adamo conobbe Eva quello stesso uomo del cui nome continuo a non volermi ricordare e che di cose sacre si intendeva con sufficiente conoscenza e smisurato entusiasmo ma credeva egli in Dio le debbo confessare che non lo so e che ancora oggi non ne sono certa mi chiarì e questo è certo del doppio significato della parola che indica la conoscenza in ebreo ma vera di più e di altro nel mio riconoscerlo in lui vedevo me mi pareva che tutta la mia vita e persino il mio amato Riccardo la cui memoria sempre mi è vicina mi avessero condotto da lui ne rimanevo imbarazzata disorientata insuppata intrisa ebra ogni cosa che mi diceva mi interessava nel senso che la trovavo di indubbio interesse per via della profondità che aveva nel discorrere ma anche e soprattutto perché mi riguardava egli non parlava solo e con quale cognizione di altro da noi fan tremare certi pronomi personali illustrissimo mi creda egli parlava di me ogni cosa corrispondeva in modo perfetto al mio sentire ogni singola parola che veniva dalla sua voce era come se egli leggesse tutto il testo che io avevo già vergato con fatica nella sua anima valorizzandone i toni e impregnandoli di senso furono proprio le sue conoscenze bibliche a farmi riflettere sulla pace e sulla sua vera essenza amava citare un passo dalla lettera di san paolo apostolo ai romani che conosceva a memoria se è possibile per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti gli uomini insisteva e con caparbia ostinazione sull'espressione per quanto dipende da voi la guerra signor procuratore dipende sempre dagli altri mai da noi stessi che sollievo mi davano quelle sue parole mi riaprivano il respiro e le respiravo a pieni polmoni ossigenandomi di loro era quello l'amore era amore quello che provavo quel che posso dirle oggi in queste righe che quanto lo spero e la starà leggendo con partecipazione emotiva è che non ne ho conosciuto d'altro tipo né tanto meno di maggiore perfezione l'amore è fascista così mi disse un giorno dei seguenti e io mi sentivo completamente compenetrata da lui e in lui ricordavo quella melodia tedesca che ascoltavo alla radio con Riccardo e nel cercare di ricostruirne il testo mi venne in mente con precisione sorprendente che di ricostruirne schatten sahen wir eine aus dass wir lieb uns hatten das sah man gleich daraus und alle leute sollen es sehen wenn wir bei der laterne stehen wie einst lili marlene wie einst lili marlene mi discioglieva le forme dai veli fremente come ero o dolci baci o languide carezze pareva conoscere senza sbagliarsi ogni parte del mio corpo e mi sentivo me stessa di più sentivo che ero per lui e solo per lui a volte nelle ore dense che trascorrevamo mi chiedeva persino scusa se di quando in quando sentiva il bisogno di voltarsi brevemente e di sentire le mie mani sul suo dorso e di nuovo mi cadea tra le braccia fu di mattina anche se non rammento il giorno esatto che lo uccisi mi guardava col suo volto che non dimenticherò abbozzando il suo infantile sorriso che avrebbe tormentato i miei ricordi in tutte le notti stupide a venire e mi diceva che era giunto alla determinazione di voler passare la vita con me che ero io la sua vita stessa e che altro non desiderava che il resto della sua esistenza fosse permeato da quel pronome di prima persona plurale che tanto ma è duro e lancinante ripetere non so cos'è b cosa mi balenò in mente quale insulso pericolo io io paventassi per me e per la mia medesima esistenza terrena e fascista ma pur rimanendo sul momento con un senso di totale vertigine come se si fosse aperta innanzi al mio sguardo la voragine infinita di un burrone che mi avrebbe portato la morte civile la stessa che io diedi a lui tornata a casa non dubitai un attimo nel prendere un foglio e una stilografica col pennino nuovo che intinsi nell'inchiostro color seppia è ancora liquido del calavo gentile signore la prego di non cercarmi né di contattarmi in alcun modo e per nessuna via di comunicazione nonché di evitare d'ora innanzi qualsivoglia riferimento o coinvolgimento della mia persona o di qualche d'uno dei miei affetti stia bene mi mordevo le carni delle labbra il sangue che ne sgorgava si riversava brevi ma consistenti fiotti nella mia bocca lasciandovi un vago sapor di metallo poi feci in modo che quel biglietto fosse spedito col primo dispaccio postale disponibile ma nei giorni immediatamente seguenti ricevetti sue notizie sempre più allarmanti che riguardavano la sua salute e che di certo mi avrebbero condotta di puro istinto a gettarmi di nuovo tra le sue braccia per affondarmi in lui e chiedergli perdono per quella falsa forma di cortesia che nulla aveva di mio ma che la mia fedeltà al duce e al suo governo mi imponeva in modo imperioso e assoluto l'ho ucciso l'ho ucciso si illustrissimo signor procuratore ho assassinato i suoi sogni le sue aspirazioni il suo amore per me e per tutto il mondo riconosciuto che eravamo l'ho fatto per fedeltà a me stessa alle regole del fascismo e alla volontà del duce suo condottiero conto sulla sua comprensione attendo la sua condanna a di primo di settembre 1939 diciassettesimo era fascista santegidio venerdì il ministro degli esteri del fascismo galeazzo ciano galeazzo ciano sia lode a lui e alla sua lealtà fedele incondizionata ed indefessa al duce suo suocero ha appena annunciato e la radio ha diffuso che le gloriose truppe di terra del nobile e invincibile Führer dell'amica Germania hanno invaso con onore e valorosa tenacia indefessa il territorio della plutocratica Polonia e la guerra la santa guerra quella che lava le colpe cancella i crimini di chiunque e li sublima nella scelta dell'assassinio di massa è la soluzione di ciascuno di noi quella che non punisce è l'oblio l'amnistia per ogni delitto il Führer mi ha concesso il perdono ho ucciso un uomo ed il suo amore per me in nome dell'ideale fascista che un domani che spero prossimo ci porterà a combattere al fianco di Adolf Hitler per la conquista del nostro diritto a distruggere chiunque ci distrugga a sua volta una vita fatta di incrollabili certezze adesso posso riposare si Duce sei anche tu come un mattino a di ventitré di settembre millenovecentotrentanove diciassettesimo era fascista san lino papa sabato illustrissimo signor procuratore del regno le invio unendolo pietosamente a questa mia l'involto contenente la lunga e certamente dolorosa missiva che la nobildonna Francesca Elisabetta Birindelli ha voluto indirizzarle purtroppo le sue condizioni di sanità di mente si sono notevolmente aggravate non ripete che frasi sconnesse e senza senso quali non ti riconosco e non torno indietro giorni addietro ha chiesto le venisse portato un grammofono cosa di cui si sono occupati gli infermieri che avevano recuperato Dio solo sa come un vecchio e obsoleto cilindro di Enrico Caruso contenente l'incisione della mattinata con parole e musica di Ruggero Leoncavallo ma appena udite nelle prime note la poveretta dopo essersi denudata ai piedi li ha infilati nella tromba acustica dell'apparecchio per avvertirla meglio di sé sosteneva l'abbiamo sedata e tuttora nei rari momenti di risveglio tende i piedi come volesse farli combaciare con non si sa che cosa la circostanza già straziante di per sé oggi si unisce al dolore per la perdita a Londra dell'amato dottor Sigmund Freud che tanto ha dato per la comprensione e la cura di cotali stati patologici rendendoci tutti più soli saluti fascisti professor romano alfieri di cortemiglia direttore della clinica mens horribilis asti naturalmente umberto ecco questo romanzo è nato da una profonda sofferenza ed è culminato nella gioia più completa per questo motivo sufficiente di per sé devo riconoscere i miei debiti che in letteratura si pagano sempre l'idea di un romanzo illustrato mi è venuta come sarà ovvio all'attento lettore dall'aver ripreso tra le mani la misteriosa fiamma della regina loana di Umberto Eco le libertà che mi sono concesse sono pochissime ma le scuse sono dovute ho riportato traducendoli alcuni frammenti di non je ne regretto rien di Edith Piaf il brano è stato inciso in epoca successiva all'ambientazione del romanzo come è ovvio mi faceva piacere pensare che che la mia amata protagonista avesse precorso i tempi non sono cose gravi in fondo diversa la scelta delle citazioni tratte da Lili Marlene che ho preferito non tradurre ho recepito la vulgata secondo cui la si ricollega all'interpretazione di Marlene Dietrich operazione legittima ma non storicamente accurata in realtà la prima interpretazione del brano fu incisa nello stesso 1939 da Lale Andersen la sua identificazione con l'inno delle truppe hitleriane è stata uno dei crimini più efferati perpetrati dai regimi dittatoriali il brano paolino della lettera ai romani è tratto dalla traduzione di Giovanni Luzzi del 1925 l'unica vagamente coeva all'ambientazione storica del romanzo e una delle pochissime di pubblico dominio disponibili mi sono divertito moltissimo a ricercare alcuni dei termini fascisti italianizzati per la tutela della lingua e a riportarli nella narrazione il fascismo non aveva il senso del ridicolo ho strizzato l'occhio al lettore con Cesare Pavese Giacomo Puccini ovviamente Trilussa è stato lui a suggerirmi l'immagine dei chicchi di caffè polverizzati nel macinino anche se il poeta diceva più propriamente che si sfragnino e Edmondo De Amicis che mi perseguita senza sosta come non cedere alle lusinghe dell'immagine della maestrina dalla penna rossa è l'ora di liberare questo libro il lettore mi perdonerà per le imperfezioni di cui non mi sono accorto Valerio Di Stefano 10 febbraio 2024 di presto 100 00 00 00 D 00 00 Grazie a tutti.